signore e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti nuovamente ben ritrovati qua nel solito usuale consueto disordine della mia libreria allora cari signori tiriamo nuovamente fuori questo volume questo libro la meccanizzazione dell'esercito fino al 1943 di lucio ceva e andrea curami nella fattispecie il secondo volume quello contenente relazioni foto e documenti perché continuiamo a parlare dell'impiego tattico dei nostri mezzi corazzati delle nostre autoblinde soprattutto nel deserto africano durante la guerra durante la guerra nel deserto allora 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 cari signori allora e si tratta di una relazione del colonnello bizzi e che era come dire una risposta al questionario dello stato maggiore del 15 febbraio 1942 ventesimo anno dell'era fascista per quello che riguarda l'impiego delle autoblinde perché visto che ultimamente abbiamo parlato tanto delle autoblinde italiane vediamo un po come venivano impiegate e come venivano e come affrontavano anche gli inglesi sentite un po qua allora l'impiego del nostro plotone sperimentale inviato in africa settentrionale è avvenuto in condizioni eccezionali e non si possono trarre molte conclusioni le autoblinde 40 date alla pai attualmente operano in pattuglie a sostegno di reparti che rastrellano il jabel cirenaico infestato da arabi ribelli per l'impiego delle autoblinde in africa settentrionale valgono piuttosto gli insegnamenti che si possono desumere dall'impiego che ne fa l'avversario impariamo cosa fanno gli altri ok essenzialmente per l'esplorazione avanzata di grande unità per esplorazioni ravvicinate dei reparti corazzati per servizio d'artiglieria e per puntate in profondità nei larghi intervalli del nostro schienamento le famose incursioni delle dei pattuglioni del long range desert loop e del e dello special air service nei insomma nel deserto africano allora le autoblinde inglesi procedono in esplorazione ampiamente intervallata fino a uno o due chilometri seguite in genere da un paio di carri di sostegno ogni ogni gruppo di tre autoblinde per questo sostegno vengono impiegati molto spesso i carri americani da cavalleria tank light mark 2 a 4 che muovono sui terreni desertici fino a 60 chilometri orari parlo degli steward degli honei nello sfruttamento del successo la seconda battaglia della marmarica esse muovevano a pattuglie sfruttando itinerari secondari della balbia o a cavallo delle piste desertiche per prevenire le nostre truppe in ripiegamento e molestarle lungo la stessa via balbia talvolta esse agivano e agiscono tuttora con la collaborazione di batterie installate su camionette di tipo medio o di batterie da 87 tanto rapidamente trainate da essere ora designato con l'appellativo di artiglierie volanti autoblinde che giacciono tuttora distrutte nella zona di solluch di antelat saunnu aghedabia wadi el fareg el ageila sud arafileni e pezzi da 80 da 87 e da 40 catturati attestano di questa loro azione ardita spinta fino sotto l'azione delle nostre artiglierie l'aggressività dei reparti esploranti inglesi l'aggressività delle leggendarie autoblinde britanniche chiaro pattuglie autoblinde inglesi che incontravano reparti di fanteria autocarrata o appiedati le circondavano con un ampio carosello mitragliandole e stringendo via via le distanze finché le truppe appiedate erano costrette ad arrendersi se però queste disponevano di armi contro carro o almeno armi da 20 mm le autoblinde si mantenevano a distanza segnalando la situazione ai carri di sostegno o ai comandi che provocavano l'intervento di unità carriste prossime o dell'aviazione da combattimento oggi tutti i reparti dispongono di armi contro carro ed è da ritenere che in avvenire l'azione delle autoblinde britanniche non avrà più i facili successi ottenuti in passato almeno presso le unità formate con compagnie nuovo tipo un plotone fucili mitragliatori un plotone mitraglieri un plotone da 20 un plotone da 47 oggi allora se le pattuglie autoblinde inglesi prendevano contatto con i nostri reparti carristi o artiglierie si mantenevano a distanza e provocavano l'intervento della ricognizione aerea la coordinazione con l'aviazione ricordiamocelo estremamente importante soprattutto in un ambito come quello desertico cooperazione con l'aviazione nella quale gli inglesi erano maestri ma che noi ahimè mandammo malamente al macero dopo la morte di balbo e dopo lo smantellamento delle compagnie autoavio sariane va bene allora dicevo se le pattuglie autoblinde inglesi scusate alcune di queste azioni di bombardamento aereo specialmente nel primo periodo della seconda offensiva di marmarica contro unità carriste e anche contro reggimenti di fanteria la divisione trieste furono grandiose e condotte fino da sessanta settanta a parecchi contemporaneamente quando noi non riuscivamo a mandare più di trenta aerei per volta su malta o su alessandria gli inglesi bombardavano le nostre colonne di fanteria con sessanta settanta aerei per volta signori la coordinazione con la fanteria la coordinazione tra armi diverse che vi devo dire e soprattutto l'intervento dell'aviazione da combattimento e da bombardamento la conseguenza più inattesa non si aspettavano la coordinazione tra le forze di terra e l'aviazione e per noi più dannosa continua il colonnello bizzi dell'attività esplorante delle autoblinde potendo essa manifestarsi in brevissimo tempo dalla presa di contatto e non potendo i nostri reparti sottrarvisi se non con lo sparpagliamento che allenta fortemente i vincoli tattici paralizza ogni attività e rende lungamente insensibile l'azione di comando allora le parole della relazione del colonnello bizzi sono fin qui sufficientemente chiare ok praticamente spiega il colonnello bizzi come gli inglesi usavano i loro reparti esploranti su autoblinde che venivano protetti da carri armati in appoggio e soprattutto dall'aviazione dal cielo bastava una telefonata insomma una chiamata radio di una colonna esplorante inglese avanzante verso le nostre linee per far arrivare sui malcapitati reparti italiani 60-70 aerei da attacco dai Blenheim ai P-40 finendo anche per gli Hurricane insomma da abbastanza da pensare mi ha dato anche abbastanza da pensare sentite questo qui vi ripeto il concetto è soprattutto l'intervento dell'aviazione da combattimento e da bombardamento la conseguenza più inattesa sottolineo inattesa e per noi più dannosa dell'attività esplorante dell'autoblindo potendo essa manifestarsi in brevissimo tempo dalla presa di contatto e non potendo i nostri reparti sottrarvisi se non con lo sparpagliamento che allenta fortemente i vincoli tattici paralizza ogni attività e rende lungamente insensibile l'azione di comando insomma cari signori la sorpresa della la sorpresa che coglie oibò anche un brillante ufficiale come il colonnello Bizi allo scoprire che l'aviazione la Royal Air Force britannica e le truppe di terra esploranti britanniche agiscono in stretta cooperazione oibò evidentemente la lezione della guerra di Spagna la lezione della guerra di Polonia la lezione della guerra in Francia erano cadute nel vuoto che vi posso dire va bene conclusioni del colonnello Bizi allora l'attacco è sempre svolto dalle unità corazzate e dalle artiglierie le fanterie arrivano sotto la protezione dei corazzati per occupare le posizioni ed opporsi con i mezzi di arresto al contrattacco nemico la manovra si effettua soltanto valendosi degli automezzi truppe che non dispongono di automezzi se non si interrano divengono sicura preda del fuoco e dei mezzi corazzati avversari sul terreno desertico dove la visibilità a distanza è molto simile a quella sul mare ripeto dove la visibilità a distanza è molto visibile quella sul mare la battaglia ha assunto le caratteristiche tipiche del combattimento navale sì perché la guerra nel deserto ha tanto in comune con la guerra sul mare ok le formazioni lo scaglionamento dei mezzi le trasformazioni delle grandi unità corazzate sono analoghe e vengono come nelle formazioni navali radiocomandate le comunicazioni tra le formazioni l'essenziale necessità della radio delle telecomunicazioni tra reparti avanzanti le artiglierie a grande gittata sfruttano appena possono le loro maggiori possibilità sull'avversario cioè noi che non dispone di analoghi mezzi i mezzi veloci serrano il più presto possibile le distanze per poter intervenire a loro volta il fuoco è eseguito mantenendo le unità in movimento con tiro diretto celere osservato le unità manovrano talora sfruttando cortine di nebbia artificiale l'unità che si sente inferiore inverte la rotta prima di addivenire all'urto il combattimento si svolge a distanza sempre maggiori tra gli avversari e diviene sempre più combattimento di artiglieria per le quali non sono più necessari i 360 gradi di brandeggio delle armi se quindi è ancora vero che il carro armato mantiene la sua parte preeminente nella battaglia odierna è pure vero e rispondendo a naturale evoluzione che di fronte alle masse di carri e ai sempre più densi schieramenti di anticarro le artiglierie acquistano sempre maggiore importanza in funzione di controcarro e soprattutto le artiglierie semoventi che di fronte ai carri sono complessivamente meno visibili più leggeri più leggere più veloci e dispongono di armi più potente nella battaglia prossima i carri e i semoventi combatteranno secondo nuove forme forse ad un certo momento saranno i semoventi che precederanno i carri dei quali sia pure in una fase iniziale avranno assunto il compito nell'attesa le nostre unità desiderano autoblinde e carri semoventi da 47 e da 75 autocannoni da 90 carburanti carri semoventi molti semoventi e cannoni questo solo hanno ogni giorno richiesto ufficiali e anche semplici soldati in una sola volontà vincere firmato il colonnello Mario Bizzi allora la relazione di Bizzi su come i nostri ufficiali vedevano l'impiego da parte alleato delle autoblinde e delle forze corazzate in genere è oserei dire abbastanza illuminante sia l'idea che come dire noi non riusciamo a tenere il passo delle innovazioni perché perché mentre gli inglesi hanno capacità di comunicare tra loro hanno la coordinazione tra le forze di terra e le forze aeree noi queste cose qui le impariamo dolorosamente sul campo a suon di sganassoni e dobbiamo fare i conti con che cosa con scarsi mezzi il fatto che la nostra fanteria si muoveva veramente a cavallo di San Francesco a piedi le carenze di armamento a tutti ben note le carenze di organizzazione a tutti ben note la carenza le carenze tattiche e mentali dei nostri alti comandi contribuirono a un mix gravissimo che diciamo rese praticamente inutile se vogliamo il coraggio lo straordinario coraggio dei nostri soldati insomma la la supplica praticamente contenuta alla fine della relazione del 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 colonnello Bizi è oserei dire esemplare sulla situazione in cui combattevano le nostre truppe in Africa settentrionale ve la ripeto carburanti carri semoventi molti semoventi e cannoni questo hanno questo solo hanno ogni giorno richiesto ufficiali e anche semplici soldati in una sola volontà vincere perché questo ci mancava ci mancavano gli armamenti adatti ci mancavano i ricambi ci mancavano ci mancavano i mezzi per fare la guerra tutto qua quindi cari signori io credo che la relazione le conclusioni della relazione del colonnello Bizi sulla situazione al fronte a proposito dell'impiego che gli inglesi facevano dell'autoblindo direi che è quantomeno esemplare il colonnello Bizi era un professionista era chiaro era un personaggio da quello che ho potuto leggere diciamo che era un personaggio che conosceva bene il suo mestiere e cercava di farlo in maniera efficiente efficace e onesta che vi posso dire ci servono siamo 20 tanti siamo 20 ci servono carri armati ci servono camion autoblinde ci servono armi perché gli inglesi avevano di più tutto qua quindi ripeto cari signori per l'ennesima volta ho tratto ho usato questo libro e per l'ennesima volta devo ringraziare grandemente l'amico Tony De Mario che me lo ha che me lo ha regalato insomma un regalo eccezionale devo dire veramente ripeto questo libro ci spiega veramente come gli stati maggiori italiani questo documento ci spiega come lo stati maggiori italiano studiava le tattiche inglesi e ne cercava contromisure e ripeto però è piuttosto sconcertante secondo me il colonnello Bizi parlando del coordinamento tra del coordinamento tra aviazione e forze di terra rimane oserei dire stupefatto non se l'immaginava neanche mi dà ho avuto l'impressione che magari non ci pensasse neppure se vogliamo quindi che vi posso dire un ennesimo documento che dimostra il modo in cui siamo scesi in guerra che dimostra come come si combattesse nel deserto io dico sempre la solita cosa cioè in quanto noi in guerra in Africa il valore ce lo siamo portati da casa il problema è che a casa non avevamo armi sufficienti per combattere quella guerra e farcela arrivare nel teatro della nostra guerra grossa ovvero sia il fronte africano tutto qua quindi cari signori come sempre vi rimando alla lettura di questo fondamentale volume aspetto i vostri commenti e le vostre considerazioni e come sempre arrivederci al mio prossimo video quindi cari ragazzi buonanotte e soprattutto ciao ciao